E questa è la sala del veronese, uno degli esempi più alti del barocchetto genovese, ovvero della versione locale del rococò europeo, come si vede i stucchi della volta e delle pareti riecheggiano il gusto, la moda francese degli anni 40 del Settecento e anche i Durazzo, che erano molto attenti all'evoluzione della moda, si aggiornarono prima di altre famiglie genovesi e qui nel palazzo vollero questo ed altri salotti improntati appunto ai dettami francesi. Sono stucchi realizzati come in quasi tutto il palazzo da stuccatori del canton Ticino e poi la sala, come si vede, è arricchita da console straordinarie con piani in alabastro. Il tutto forma una specie di scrigno prezioso che è stato pensato, voluto, per accogliere questa grande opera. Questa è una delle grandi cene dipinte da Paolo Veronese a metà del Cinquecento. Fu realizzata per un monastero della sua città natale, il monastero dei Santi Nazaro e Celso e fu acquistata da un genovese, da un mercante genovese, Giovanni Filippo Spinola, che la portò a Genova. I Durazzo la acquistarono soltanto all'inizio del Settecento, la portarono qui e appunto attorno a questa, che era una delle opere più richieste, volute, amate da soprattutto i viaggiatori stranieri che venivano in Italia, attorno a quest'opera si costruì questa grande sala che miracolosamente si è conservata esattamente come la vollero i Durazzo. Il dipinto purtroppo, quello che vediamo oggi, non è quello originale. Questa è una copia, una copia seicentesca, che fu realizzata proprio quando il quadro arrivò da Verona a Genova. L'originale fu trasferito dai Savoia a Torino quando si inaugurò, alla fine degli anni Trenta, dell'Ottocento la Pinacoteca Regia. Il quadro è ancora lì e qui purtroppo fa bella mostra di sé questa copia di un artista locale. Ma come ho detto, questo è uno soltanto dei grandi salotti del Gran Piano Nobile. dà accesso a quella che sicuramente è la sala che giustamente è un po' il simbolo del Palazzo Reale di Genova, la Galleria degli Specchi che adesso andiamo a visitare. Grazie. 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 Grazie.